Vado? Ah ok, vabbè anche per vedere i messaggi mi scrivo qualcosa, no ce l'hai scritto la Io vado eh, vai Ecco Freezer Comunque Freezer dovrebbero, dovrebbero depotenziarlo eh No, ma sto sparando a me Mi è arrivato un colpo, mi è arrivato da dietro il culo Ah, mi sa che era... Ah, ho capito chi che mi ha colpito eh Ma non mi ha preso però eh, il culo Era Dodoria che mi ha sparato nel culo eh Lo saltello bene però Chi è? Ti salvo io cazzo, dove cazzo sei? Questa roba c'è qua? Questa roba c'è qua? No sta venendo qua eh, spero che non mi sente Vadouuu Non spera eh Minchia pure il rata a livello 3 cazzo che culo Tu hai trovato un'altra chiave, usalo rapidamente Oh oh Arriva eh È lì vicino da qualche parte Ma ci sarà una sfera da qualche parte qua no? Ma quello ce l'ha quello Oh Guarda che lo sapevo che era qua la chiave cazzo Faccio gliela mettam Ma dici che è morto quello là Non c'è Eccolo con un' di C'è un' della C'è un' di medaglia solid perchè? che è successo? come ti ha scammato? l'ho sentita eh quando ti vede freeze sai che ho messo anche quella di dragon ball però adesso l'ho cambiato ho messo quella di però quella che c'era prima io ho messo un'altra ma ci stava di più adesso che ci starebbe quando si trasforma quando tipo o quando uso tipo un machine bull una roba del genere ah è vero che c'ho il kaioken adesso però il kaioken a me non serve a un cazzo sai perchè? perchè se c'ho questo io mi muovo velocemente con questa roba qua capito? quindi non mi serve il kaioken in effetti comunque però era per provare sono pure dimenticato di provarlo non ho dimenticato che uscire l'avevo cazzo che l'ho messo o me mi sa che wow direi che è e adesso la capsula mi sarebbe servito adesso che l'ho tolta ah ma lui è proprio lì cazzo ah ma lui è proprio lì cazzo che sta camperando la boss la chiave lì ho ma non puoi salvarlo quello mi saè la chiave è che scompa che s'eserci che s'eserci che s'eserci che s'eserci Nooo, mi è scappato, bastardo! Madonna! Mi ero entrato dentro, mi ero entrato pezzo di merda! No, si sta facendo uccidere quello che c'è le sfere, è scemonito! Nooo! Nooo, si è fatto inculare! Ora gli piglio le sfere adesso! Minchia! No, non ci posso credere! Ma le ha prese, fermo, fermo, fermo! Ma le ha prese! No, non riesco a prenderle! Ma do sto coglione di merda! Specciate! Scappa via! Minchia, le ha prese quell'altro coglione! Dove cazzo va? Dove cazzo le ha messe? No, non ci credo! Ma dove cazzo me le ha messe? Eh, su... No! Oh! Ma c'è... Ma quello mi spara, eh? Oh, da via! Ok. Dove cazzo le ha messe? Ste sfere maledette! Dai, adesso lo cazzo! Summona Shinron at the altar! Dai, adesso lo cazzo le ha messe! Ma ora mai più! Vai! Ma cosa ha detto? Non ha detto niente, eh! Ah! È arrivato il momento di Junior, eh! Adesso con Junior vi faccio vedere io come si gioca! Allora c'è la canzone di Junior! Io ci ho messo di Dragon Ball comunque da riscattare con le canzoni! Comunque, eh! Che potrebbe volare il gioco di Dragon Ball GT PlayStation 1! Ah, già mi ha visto! Come vuoi sapere dove sono? Ah, vedi? Madonna, adesso gli spammo questa e gli spammo, cazzo! Wow! Madonna, non lo sta beccando, eh! Ah! Wow! Sciada! Minchia, è arrivato... No, merda! Oh, oh! No, merda! Adesso mi piglia! Dio! Madonna, meno male che... Ah! Non mi hai colpito! Meno male che mi sono ricordato del rampino, cazzo! Sennò qua mi inculava, eh! Aspettatemi che arrivo! Eh, sì, vabbè! Ah, vedi? Wow! È così morto! Ma vai! Ah! Ma dove? Ma io lo spammo bene! Ma dove? Addio! È finita! Ma dove? Dove ho detto? Oh, è troppo forte la mossa di Junior, quella finale! te l'ho detto io